L'Università degli Studi di Teramo ha accolto il convegno regionale Migranti, problema o risorsa, organizzato da Lega Coop Abruzzo. Finalità del convegno, quella di sottolineare l'importanza di un'intelligente gestione dei frussi migratori e di efficienti e adeguati processi di integrazione. Il tema dei migranti è un tema di attualità a livello nazionale. Noi come Lega Coop Abruzzo, come Lega Coop in generale da sempre, cerchiamo attraverso delle politiche di accoglienza e di inclusione di dare una risposta che è l'unica risposta. L'Italia è un paese con un tasso di natalità negativo, una emergenza nazionale per troppo tempo sottovalutata della quale solo ora si sta prendendo coscienza e una delle poche risposte che si hanno è quella di compensare la mancata natalità attraverso delle politiche migratorie intelligenti che consentano di verificare gli accessi, di fare dei percorsi formativi nei confronti dei migranti e di inserirli poi nel mondo, nella nostra società, nel mondo lavorativo. E di formazione e inserimento nel tessuto sociale si occupa Lega Coop attraverso le 42 cooperative sociali e gli oltre 1.300 soci sul territorio. La cooperazione opera nella direzione di lavorare attraverso piccoli gruppi, nel rapporto con le comunità, accompagnamento alla formazione, all'inclusione, accompagnamento al lavoro. Perché questa secondo noi è la modalità che consente di passare davvero, come dice il titolo dell'iniziativa di oggi, da pensare la migrazione come un problema a pensarla come una risorsa, perché poi le persone possono essere anche per il nostro Paese delle risorse importanti. Accogliere prima la persona, mettere al centro la persona, diventa l'elemento primario sul quale puoi fondare la costruzione del loro futuro e anche del loro futuro nella nostra società.